Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora Questo sarà il videozzo di Natale Abbastanza leggero Volevo fare un roleplay ma Non ho proprio il tempo Perché fate conto siamo a venerdì Di solito i video escono a venerdì Quindi Io ho avuto verifiche fino a ieri Che era il mio ultimo giorno di scuola Quindi per favore chiedo venia Davvero chiedo venia Mi dispiace però Cercherò di fare qualcosa durante queste vacanze Anche se vorrei anche un po' riposarmi Credo mi capiate Comunque oggi ho deciso di riportare Un format che ho fatto Un bel po' di tempo fa Ovvero make up tutorial ASMR E volevo ovviamente fare qualcosa di Natalizio Allora ho portato qui tutte le cose Sicuramente ho dimenticato qualcosa Però ci proviamo Unica premessa qua Vedete Un po' Volino rosso E un po' rosso qui Non metterlo al fondotinta in questa zona Perché ho avuto una reazione allergica Non so ancora che cosa Quindi Non Non volendo rischiare Non tocco questa zona qui Allora Iniziamo Iniziamo Nel frattempo Magari se avete voglia Scrivetemi che cosa fate a Natale Se vi piace truccarvi a Natale Oppure Se avete progetti particolari Per il prossimo anno Fatemi sapere Io per ora nulla di nuovo E Io uso questo Che è di mix Il numero Quattro E le metto Un cancino Dove ho la parte più scura Delle occhiaie Quindi Qui Ho ripreso l'abitudine A stendere il corattore Con le mani C'è con le dita Quindi lo farò Perché Risulta più coprente Comunque Ho deciso di fare Un video Non roleplay Oggi Perché Ho Un po' di casino In casa E sarebbe Davvero stato Lunghissimo Lavoroso Di Sicuramente Tempo sprecato Perché Non sarebbe uscito Un buon lavoro Quindi Ho preferito fare Qualcosa di più Easy Adesso Prima di mettere Il corattore Un po' più chiaro Metto Il fondotinta Io uso Questo rimasuglio Di Bimicream Appunto Perché Non mi va di mettere Cose pesanti Non si sente Nella E' Della Burbio Si chiama Sublime Bimicream La 01 Ovviamente La più chiara La 01 Ovviamente La più chiara E io uso Pennello E io uso un pennello E' Della Real Techniques E' Mio pennello Preferito Per il fondotinta Per il fondotinta Ovviamente Non faccio la fronte Perché Atterro al cappellino Di natale Per tutto il video Allora Allora Sono indecisa Se fa una cosa Sobria O assolutamente Non sobria Ma che io A natale Farei senza problemi Vedremo Ok Metto anche un po' Sull'occhio Ok Adesso Metto il correttore Io uso Questo qua Di Essence Camouflage Il numero 05 Comunque Comunque Questo Natale Per me E' già partito Stranissimo Di solito Di solito Sono molto più Niente molto Sono molto più Nella festività Quest'anno Si vede che Davvero Avevo talmente Tante cose In mente Che Sono un po' in retardo E non lo sono mai Mai stata Ecco qui Voi Voi con i regali Come siete Di solito Siete quelli puntuali O quelli Che cominciano Il 22 No vabbè Io Ce li ho Più o meno Tutti Più o meno Ma Ad esempio Anche l'albero Di Natale Ancora E' indietro E' bene iniziato Solo che Nessuno In casa Ha tempo Di farlo Quindi Mi sa che Oggi Se riesco Farò qualcosa Ok Dato che In questo periodo Ho la pella Un po' più Serca Del solito Anche le labbra Non sono la mia Solita cipria Ma ho solo Proprio Un velo Di cipria Compatta Soprattutto Per il correttore Ok Ok Perfetto Adesso Metto Questo Opretto qua Che uso come base Per gli occhi Sarà uno specchio Aspettate Ok Che è della nabla Crema Si chiama Underpainting Che lo metto Come base Per l'ombretto E' un po' giallina Rispetto alla mia pelle Però Sotto gli ombretti Va bene Così Così Ok Poi dai Vi posso raccontare Anche qualcosa Nel frattempo Vi addormentate Però forse Quello è il punto Ok Vabbè Sono scema Sono tanto scema Allora Adesso Prima di cominciare A parlare Faccio un po' Le sopracciglia Ce le ho un po' Già fatte Però Sono un po' Da sistemare E uso L'ombretto Da questa paletta Della Too Faced La Sweet Peach Ci le ho un po' Che le ho un po' Che le ho un po' Grazie a tutti. E uso un po' di ombretto su marrone. Allora, in questo periodo, vabbè, a parte la scuola, un po' di stress scolastico, vabbè, adesso non ho fatto così, non ci posso fare niente. Ormai sono in guarda, me ne sono fatta una ragione. Vabbè, c'è stata una fiera domenica scorsa, sono stata a Torino e tra l'altro ho incontrato una ragazza che mi segue. Hai saluto l'olore in caso stia guardando questo video. Niente, scusa per l'imparaggio, insomma, sono un attimo spaesata. Già ci vedevo poco, poi era un attimo, ah, ok. Niente, sono andata a questa fiera, è una fiera piccolina, è il Christmas, 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 appunto di Torino. Però, carina, c'era un'area cosplay che di solito mi hanno detto, appunto questa ragazza mi ha detto che ingrandiscono in primavera e se riesco sicuramente ci andrò. Comunque, in questa fiera ho portato sia il di Black Butler, io volevo fare un video ASMR che mi avete dato, tra l'altro, richiesto su Instagram. Aspettate un momento spam, se non mi seguite su Instagram, c'è qua sotto il link. Però, ho tutto il cosplay che devo, cioè, dopo un po' sfiera ho già dato il lavaggio, non voglio rovinarlo, quindi devo fare un attimo le cose con calma. Poi lo farò magari, sicuro. Adesso metto un po' di terra. Solita. Ovviamente, mettetela anche sulla fronte, oppure fate come me, comprate un cappellino da Tiger e non è posto. E niente, ho visto un sacco di bellissimi cosplay, cosplayer, e ho passato una bella giornata tranquilla, comunque. Sono stata contenta, ecco. Però sono tornata distrutta, perché sono stata impittata il giorno e, vabbè, ho fatto anche il viaggio di ritorno. Però, tutto sommato, è andata bene, ecco. Poi, in questo periodo, cosa stai facendo di notte? Sto cucendo un cosplay, avevo tutto da su, guardando, tutto da su, guadissima. Anzi, due cosplay. E uno, però, è un attimino una bella surprise, quindi non dico niente per ora, anche perché non sono neanche sicura della riuscita. E comunque, uno, invece, che sto facendo è, sto rifacendo un personaggio che ho fatto un sacco di tempo fa e l'ho fatto male. E quindi, dato che mi mancava qualche personaggio un po' pazzo, certo Yumeko non è proprio tanto normale, però un po' pazzerello, ho deciso di rifarlo e sto parlando di Monopier o Monokuma di Tangaromba. E niente, che è senso. Poi, ecco, altra cosa, sono andata a vedere animali fantastici. S.D.C. e i crimini di Grint, in realtà, non vedo di trovarli. Allora, devo dire che, no, vabbè, non vi spoilerò niente. In generale, il film è discreto, ma proprio come film, perché è un po' vuoto di sostanza per una buona, una prima, a metà, non succede niente. Poi succedono delle cose, ovviamente, mettono, buttano dentro un sacco di personaggi, un sacco di cose e è ritornato in mezzo, ovviamente, all'obscurus, che non mi ricordo mai come si chiama. E diciamo che è stata la parte che mi è piaciuta di meno proprio a livello di trama. Per quanto riguarda Grindelwald, Grindelwald è un cattivo, un cattivo che, devo dire, è stato costruito abbastanza bene per il momento. E vedremo, perché sicuramente almeno un altro film uscirà, sono stati messi da quello che ho sentito, cioè, probabilmente sono un po' a rischio gli altri due, perché questo non è andato proprio tanto bene al botteghino. Però, vedremo, vedremo, nel frattempo sto mettendo un blush, questo non lo trovate più, è un vecchio blush di Kiko. E lo sto mettendo un po' sul naso, perché ovviamente voglio fare una cosa di un po' mancosa. E quindi mi sto mettendo tutta questa cosa, insomma, ok. No, c'è un perché, c'è un perché, scusate la cosa qua. Comunque, scusate la cosa che faccio, no. E anche Nude, che nel primo era il protagonista, adesso è diventata, cioè, non c'è un vero e proprio protagonista per ora. Silente, anche, mi è piaciuto abbastanza. Sto prendendo un po' di questo. Ok, è un ombretto, ma io lo uso un po' come blush, per renderlo un po' più rossiccio. Stavo dicendo, Silente, mi è piaciuto abbastanza. Non si è visto tantissimo. Mi è piaciuto il rapporto che hanno buttato lì con Agri in the world, che non hanno approfondito tantissimo. Però c'è qualcosa. Però, il finale, cioè, potrebbe, cioè, visto dall'esterno, potrebbe essere anche un finale, non dico inaspettato, perché comunque, a metà film, quando è stata in mezzo, messa in mezzo alla questione principale, ovvero, chi è questo benedetto Oscurus, che non mi ricordo mai come si chiama, ho detto, alà, che trovano il pretesto per fare questa cosa in qui. Quindi, magari, da spettatore non fanno, potrebbe anche piacere, ma, cioè, perché io sto ancora cercando di capire da dove cavolo abbiano tirato fuori questa cosa. Perché? Non lo so. Il bello che è stata la Rowling a scriverlo, che, sì, è vero, ha fatto anche tanti buchi di trama, oppure incomprensioni nei libri stessi di Harry Potter, ma con quelli ha scritti uno dopo l'altro. Cioè, probabilmente, aveva un'idea, ma non un'idea completissima di quello che voleva fare. Però, scavolo, stai facendo un prequel. A questo punto, lo sai cosa succederà? Vabbè, vabbè. Dopo aver fatto questa cosa, prendo dell'illuminante, io uso questo della NYX. Ovviamente, magari, senza fare spoiler, oppure scrivetelo spoiler, conosco una casa. Fatemi sapere se l'avete visto, cosa ne pensate. Ah, io ho trovato più carino il primo di Animali Fantastici. Le creature magiche, però, mi sono piaciute un sacco. Lo snaso ce l'hanno fatto vedere per qualche scena, poca roba. Ce l'hanno messo, però ce l'hanno messo di bellissimi, delle bellissime creature, devo dire. Ok, no, ho sbagliato il pennello. Cerco di scaricare un po' con il pennello della fondotinta, però voglio che si veda questa cosa, questa quasi macchia. Ok. Ok. E... come qua si si dai amanti della fossa di Harry Potter sicuramente dovete farmi una vostra idea vi assicuro che non c'è fredda potete anche aspettare di verlo in televisione però non so neanche se ci sia ancora il cinema sinceramente io l'ho visto il cinema però ecco adesso vediamo di fare qualcosa inizio prendendo la Naked 2 e la uso perchè voglio un colore burro e quindi lo prendo da qua adesso prendo da questa palette no anzi faccio prima un'altra cosa utilizzo un po' del mio solito eyeliner di Neve Neve Cosmetics si chiama Acepsut faccio una linea di base sull'occhio e sicuramente anche io lo vorrei vedere un'altra volta però su alcune parti su alcuni punti di vista è andato bene perchè il personaggio di Grindelwald mi è piaciuto abbastanza su altri no ecco poi i nagini assolutamente inutile che te la presentano così tanto come un personaggio wow nel trailer ma assolutamente ma me lo aspettavo sinceramente ok ok ho fatto questa linea non è anche troppo preciso e faccio vediamo se riesco a farlo vedere meglio cerco di collegarlo anche un po' sotto così in questo modo perchè dopo voglio fare un po' di gusall che sarebbero le borse con le steca voi faccio un altro occhio e torno subito e comunque questo coso è finito allora a questo punto dato che non voglio una cosa netta perchè non è io mi ho detto prendo un ombrettino porto questo è anche bello sbrilluccicoso della palette Cosmic Med Ultimix e sfumo la parte superiore soprattutto quella più esterna cosa è che Così Tutto 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 Io direi che è doppico è doppico l'oro Utilizzo un pochino di quello della micchietta che è questo qui e lo metto nella parte più interna così per dare un tocco di glitterini che non fanno mai male così ovviamente non so che cosa farò a capodanno non so neanche se farò qualcosa anche perché anche perché io ho sonno quindi c'è stare in sveglio fino a pensate vuol dire far qualcosa per me e anche qualcosa di impegnativo e adesso ne prendo uno ancora un po' più chiaro sempre dalla palette di NYX così e lo mettiamo un po' più qui e anche qua ok adesso con lo stesso ombretto con cui ho fatto le sopracciglia nel mio caso con un ombretto marroncino mi metto a sottolineare un po' quindi con un marroncino appunto vado qua sotto faccio questa faccia un po' bellissima e sbocco un pochino così e poi mettiamo la matita color burro io uso quella di Neve Cosmetics ok adesso metto un pochino di mascara poi le ciglia fit le metto off camera perchè non credo di essere in grado in questa posizione come mascara uso il The Shock della Yves Saint Laurent questo è un campioncino ovviamente che è l'unico mascara che io abbia mai utilizzato che profuma vi giuro profuma proprio che profumo e tra l'altro a me non piace neanche così tanto perchè è liquidino si asciuga dopo 20.000 anni però vabbè adesso devo solo usare poco poco per per mettere le ciglia finte prima spinnello un po' via tutto il casino che ho fatto qua sotto con il pinnello così così ok metto le ciglia metto che le occhiaie mi si vedono ancora tantissimo ma al mio discorso posso dire che ho la luce un po' troppo su ma il cavalletto è troppo alto non riesco a abbassarlo più di così quindi e poi ho bisogno di dormire dormite voi dormite 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 ecco e passiamo la parte divertente colla e glitter allora con la colla delle ciglia vitte volevo mettere un po' di glitter rossi in faccia e questi sono glitter per le unghie e utilizzerò quelli dorativi ovviamente e magari rosini per i miei anche per i miei anche per i miei per i miei davvero per i miei rossi mi sa che sembrava un po' di woofone quindi ok ok allora prendiamo la nostra collina ci facciamo un porfoletto di colla facciamo anche venire uno qua un porfoletti di colla questo ha nome tecnico così dopodiché quando la colla diventa blu estera prendiamo il glitterino ancora una pizzetta mi piace a questo è difficile oh madonna non devo vedermi e cominciamo ad appiccicarci in faccia ok ok mi raccomando mi raccomando usate la colla per le ciglia finte e non con le strane di bovina viene perchè non fa bene oppure non vale la pena per dei glitterini così piccoli non fa non fa non fa non fa non fa non fa ok non fa così così vedete meglio il baggiù come sto facendo non fa 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 bene no venga tutto ma non è qua per ora sto sempre mettendo quelli doratini così poi adesso la colla si deve asciugare è ancora un po' lucidina però voglio metterne qualcuno anche un po' lucidino vediamo comunque il video non uscirò sicuramente oggi che è venerdì perché sono già le quattro e ci metterò un po' a montare questo video va bene va bene così facciamo salvare invece no dove non mi sa che mi è caduto no proprio qua questi questi tratti sono troppo grandi da mettere sulle unghie quindi non li uso mai li avevo presi la prima volta o meglio me li aveva regalati mia madre la prima volta che siamo andati a Londra ok adesso metto a Londra io ero appassionatissima di farmi tutte le decorazioni di unghie ero tipo alle medie e quindi mia mamma quando siamo andati a Camden Lock noi avevamo la casa a Camden Town avevamo visto questo stand questa bancarella non so come spiegare di questa marca di unghie che era sconosciutissima in quegli anni lì ma che adesso visto che c'è anche tipo da capello point in Italia che si che si che si chiama a Moju e venneva tutti gli stampini per le unghie le decorazioni ecc mi aveva regalato questi qua solo che già avevo le manine più piccole non che adesso sia cresciuta più di tanto però e ho comunque le mani piccole anche adesso secondo me sono troppo grandi per le mie unghie forse per la ricostruzione vanno bene ma non per me sicuramente voglio giocare un po' i videogiochi vorrei tanto fare dei gameplay ma non so proprio come fare tecnicamente perchè il mio computer su computer mi è bisogno di farli e non li regge quindi dovrei tipo inventarmi di mettere la telecamera davanti allo schermo però mi sembra un po' una boracciata e poi per ora sto giocando a giochi un po' troppo rilassanti da vedere e quindi quindi non è il caso ecco mancano ancora le labbra tutto ciò ecco se avete dei brufoli mettetevi glitter in faccia così si mimetizzeranno ok io direi che può anche bastare quanto riguarda le labbra invece metto volevo mettere il rossetto rosso però come vi dicevo le labbra un po' secche in questo periodo quindi faccio una cosa un po' più soft prendo un rossetto liquido un rosso questo è di pupa si chiama i'm matte lip fluid colore 052 rosso normalissimo e faccio questa cosa allora lo metto solo un po' al centro così dopo di che potete utilizzare anche un po' di fondotinta io uso questo per comodità che è un cushion e poi perché fa un bel rumore chiudo un po' le labbra per fare un po' l'effetto 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 così e concludo tutto con giusto un pochino di luce da labbra a punto per non far seccare troppo le labbra ok 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 allora allora con questo video è tutto spero che vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia per fare un po' l'effetto e io spero di riuscire a fare un video prima per l'ultimo dell'anno in ogni caso vi auguro un serenissimo Natale e nel caso in cui non ci vedessimo un bellissimo 2019 pieno di cose belle insomma grazie mille per essere stata con me quest'anno abbia disupportata cose che non mi aspettavo insomma di avere un sostegno da persone così carine che non c'è è difficile proprio da connettere che poi delle personcine che vedo lì poi ci sono infatti quando mi capita che vi fermate magari a qualche fiera io sono tipo ok e ve l'ho detto all'inizio scappo poi ci penso e torno indietro però sono fatta così sono un po' timida un po' quindi niente grazie mille e lo state sui denti già 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 no ci fate così evitate di smorgare tutto comunque ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti e ancora tanti uri ciao 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 ciao